Dopo 16 anni torna Aida al Teatro Carlo Felice, l'opera di Giuseppe Verdi. Dalle 2 al 6 dicembre inaugura la stagione lirica del Teatro dell'Opera di Genova. Benvenute col Teatro Carlo Felice a Sì che la sai. Come vi chiamate? Petra, Stefania, Kirill, Martina, Susanna e Bolla. Ok, let's go. Cominciami subito il quiz con le quinte domande. Aida è un'opera di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang, Amadeus, Mozart. Eh, sono parecchio ignorante quindi non saprei. Giuseppe Verdi. Verdi. Ma anch'io Verdi. Verdi. Verdi? Oh yeah! L'opera Aida è ambientata in Italia, in Egitto o in Sudafrica? Secondo me Italia. Egitto. Andiamo sull'Italia. Italia, io Italia. Questo è l'Italia. Direi Egitto. 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 Da come si chiama il guerriero egiziano innamorato di Aida? Radames Filottete al Bazar. La prima, Rabadess, Rabadess. Dio covo Filottete. Radames. Penso anch'io. Radames. Bravo. Chi era l'attrice che ha interpretato Aida nel film del 1953 di Clemente Fracassi? Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Monica Vitti. Ah, non lo so, potrei provare magari Sofia Loren. Lollobrigida, Lollobrigida. Monica. Monica Vitti. Monica Vitti. Oh, mio Dio. Direi Sofia Loren. Sofia Loren. Termina la frase di Radames. Se quel guerriero fossi, se il mio sogno tramontasse, s'avverasse, si infrangesse. S'avverasse. Si infrangesse. Aiuto, aiuto. Please help me. E non ho capito, ripeti un attimo. S'avverasse. Tramontasse. Stiamo d'accordo, eh? S'infrangesse. S'avverasse. S'infrangesse. S'avverasse. Grazie, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Ci rivediamo in teatro. Sì, sì, grazie. Sì, sì, grazie.